Rossana Corrado a disposizione nella squadra di Vittorio Petelli, in particolare, viste le sue competenze, sarebbe l'assessore all'urbanistica qualora Petelli fosse eletto sindaco, perché la scelta di scendere in campo qua a Civitavecchia? E poi, altra domanda, si ha visto già quali sono le criticità maggiori della nostra città a livello ovviamente urbanistico? Dunque, io innanzitutto scendo in campo perché me lo chiede Vittorio Petelli, una persona della quale ho piena fiducia, per senso civico, perché letteralmente, in quanto io non mi schiero politicamente, sono un tecnico, faccio il mio lavoro in urbanistica da una serie di anni, sia all'interno dell'amministrazione che fuori, ho avuto degli incarichi politici, però ecco, sempre da tecnico, ovviamente porto la mia disciplina all'interno dell'amministrazione e il mio sapere a servizio dell'amministrazione. Per quanto riguarda Civitavecchia, qualcuno potrebbe dire si tratta di una persona che non è di Civitavecchia, non è originaria di Civitavecchia, non vive a Civitavecchia. Beh, io penso che, come dire, trattasi di una materia, ripeto, molto tecnica, per cui come il medico non deve aver avuto tutte le malattie per saper curare un paziente, forse è meglio anche che il medico sia distaccato in un certo senso dal paziente, perché in questo modo riesce meglio a verificarne i problemi, a capire quali sono le soluzioni più adatte per risolvere proprio il problema. Diciamo che lo sviluppo sostenibile, detto così, sembra uno slogan trito e ritrito, però cerchiamo di farlo ricadere proprio sul territorio di Civitavecchia, in programmi concreti, in proposte urbanistiche che possano avere un effetto sull'economia locale, sull'incentivo all'impresa locale e all'artigianato del luogo. La volontà soprattutto di fare veramente qualcosa per la cultura di questa città, per riscoprirla, tante cose che si sono perdute negli anni, tra cui per esempio il titolo di città del libro, noi eravamo una città che era inserita in un circuito anche importante, perché non è un nome basta, fa parte di, appunto, dicevo un circuito, ma muove gente, quindi anche soldi e turismo perduto. Quando noi abbiamo autori che pubblicano ogni sei mesi, abbiamo poi Tolfa, invece che ha questo titolo, per carità, ben venga per Tolfa. E questa è una delle tante cose, per esempio quella, ma a ripristinare per esempio il venerdì del Traiano, è impensabile che un teatro dica chiudiamo i battenti perché non ci stanno i soldi. Soprattutto dobbiamo cominciare a pensare che siamo nel 2019 e dire che con la cultura non ci si mangia è da barbari. E i barbari purtroppo hanno passato il loro tempo, dire alle persone come succede ora, vai dall'assessore alla cultura, non ci sono i soldi, ecco fate la stessa cosa allora anche con i vostri figli, quando devono andare a scuola ditegli non c'hai i soldi mamma e papà per mandartici e te mandiamo direttamente a scavare le pietre perché è quello che vogliono ancora prospettarci.